A comunicarlo è stata Giuse Errante questa mattina, la titolare del pub Las Vegas di Abbiategrasso, ovvero l'organizzatrice del concerto della Discordia, quello che da oltre una settimana sta scaldando gli animi in città. In un post sulla pagina Facebook Abbiategrasso Online, l'Aerrante scrive Comunico pubblicamente che ho annullato il concerto io personalmente né comune né sindaco, quindi la potete finire con tutte queste polemiche. Si conclude così la vicenda nata quando il locale ha diffuso la locandina dell'evento, un concerto con alcuni artisti del panorama neomelodico, tra i quali Nico Pandetta, nipote di un noto boss mafioso, in carcere per reati di mafia in regime di 41 bis al quale spesso il giovane cantante ha dedicato i suoi testi. Seme della Discordia è il luogo dell'evento, il teatro fiera di Abbiategrasso, ovvero uno spazio pubblico comunale. Diversi i commenti di esponenti del mondo associazionistico e politico come quello di Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia e consigliera del Movimento 5 Stelle Lombardia. Non è pensabile, ha detto, che negli spazi pubblici siano ospitati messaggi che inneggiano alla mafia. Indignazione anche da parte della carovana antimafia Ovest Milano. È inaccettabile, dicono, che simili soggetti non solo calchino un palcoscenico di proprietà del comune, ma che partecipino alla vita culturale della città di Abbiategrasso. Tutto dunque era nelle mani del sindaco, che doveva decidere se concedere lo spazio o meno. Ma la titolare del pub è arrivata prima annullando l'evento, ma promettendo, non lo farò cantare in fiera, ma canterà ad Abbiategrasso. Questo è poco, ma sicuro.